E' appena finita la partita tra Corona e Carriamponti, il Corona è in seconda, abbiamo due dei giocatori che hanno portato il Corona in seconda, Marco Alquati il capitano e Alessio Fadini il bomber. Prima sentiamo Marco, le tue sensazioni dopo questa promozione? Sensazioni incredibili, io non ci credevo, sono sincero, dopo la sconfitta di Gussola avevo perso un po' di speranze, si vedevo stanchi ma questa squadra ha un cuore incredibile e oggi abbiamo dimostrato col cuore. Il cuore mister che ci ha sempre incitato a non volare mai, Predoccia, Presidente, Gini, adesso andiamo a festeggiare, dopo devi fare la traduzione perché lui l'italiano non sa tanto. Alessio, tu oggi hai partecipato solo gli ultimi 20 minuti perché avevi un problema fisico però durante l'anno hai fatto i gol insieme a tuo fratello che hanno fatto la differenza, tu sei a Corona, sei di casa praticamente, quindi per te portare il Corona in seconda cosa vuol dire? Sì, è una gioia, è una gioia infinita, cioè sto tremando, non ci credo, è un'emozione indescrivibile veramente, sono i brividi. Capriano Ponti è un'ottima squadra ma voi l'avete battuta tre volte su tre e senza mai subire gol, il segreto di riuscire a battere la strada? Stare sempre stretti e crederci sempre fino alla fine, è quello il segreto, assolutamente. Grazie Alessio, ti lascio andare perché sono partito.